Ciao a tutti da Podrack, in questo video vi parlerò di Echo Show 8, il nuovo dispositivo che va a richiedere il mondo di Echo Show su Amazon. Abbiamo già Echo Show 5 e Echo Show 10, Echo Show 8 è il mezzano, la via di mezzo tra Echo Show 5 ed Echo Show 10. Come si può dedurre dal nome? Il numero finale presente dopo la parola Echo Show indica più o meno le dimensioni del display. Echo Show 5 è da 5,5 pollici, Echo Show 8 è da 8 pollici, Echo Show 10 è da 10,1 pollici. C'è una bella differenza tra Echo Show 5 ed Echo Show 8 perché nel secondo caso abbiamo un display HD, i driver musicali sono decisamente più potenti da 10 watt, a differenza di Echo Show 5 che ne ha solamente 4. L'audio è più cristallino essendo che ha dei tweeter e dei bassi un po' più profondi, bassi però che non sono profondi come Echo Show 10. Echo Show 10 è il top di gamma in assoluto perché oltre ad avere proprio dei driver super potenti che davvero si sente bene, oltre ad avere un display grande ha anche il protocollo ZigBee che vi permette di controllare quei dispositivi che richiedono un hub. Echo Show 10 funge un po' da hub e quindi vi permette di controllare i dispositivi, le lampadine per esempio le Philips Hue senza dover avere degli hub terzi. Ma andiamo a vedere più da vicino il dispositivo. Grazie a tutti. Ed ecco qui Echo Show 8 alla mia sinistra e Echo Show 10 alla mia destra. Echo Show 8 è un dispositivo che sembra più piccolo ma in realtà è tutta questione di cornici perché per quanto riguarda il display alla fine abbiamo una differenza solo di 2 pollici rispetto ai due dispositivi. È un dispositivo con display HD quindi quando andate a vedere i video su YouTube, i film, i video si vedono in HD, non in Full HD. A differenza di Echo Show 5 il display ovviamente è migliore perché su Echo Show 5 non abbiamo un display HD. Altra cosa sono i driver. Infatti qui abbiamo dei driver che raggiungono 10 watt, ha dei buoni bassi, ha dei buoni medi, non quanto Echo Show 10 che ha dei bassi wow. Però sicuramente se prendete i due dispositivi Echo Show 5 e Echo Show 8 capite subito la differenza in termini di qualità. Abbiamo solamente mi pare due microfoni per quanto riguarda Echo Show 8 mentre ne abbiamo 8 su Echo Show 10. In termini di sordità vi posso dire che comunque sia Echo Show 10 sia Echo Show 8 se mettete la musica alta al massimo fate davvero fatica a parlargli, dovete urlargli. Qui nasce l'esigenza di 8 microfoni perché non potete capire quando partono i bassi con questo dispositivo davvero fa un casino assurdo. C'è bisogno di tutti questi microfoni. Su Echo Show 8 non è proprio necessario quindi ci sta. La cosa bella che mi piace di questo dispositivo è il fatto che c'è proprio la tendina quando andate a chiudere la fotocamera da 1 megapixel. Entra qui avete una fotocamera da 5 megapixel che però non potete oscurare, dovete mettere voi qualcosa allo scotch. Qualcuno di voi mi ha chiesto ma Poderac la fotocamera perché la devo lasciare scoperta? Tanto vale che la lascio sempre chiusa. No, non fatelo perché questi dispositivi rilevano quando c'è un movimento davanti a loro. Se la lasciate coperta, quando voi passate ad esempio vi mostra le notizie, vi mostra un contenuto, esce dalla sua modalità in pausa tra virgolette e vi mostra delle informazioni se la lasciate aperta. Parlando di interfaccia alla fine è pressoché simile se non uguale come potete vedere. Se io vado a scorrere così cambia solo il posizionamento. In questo caso abbiamo un posizionamento molto simile a Echo Show 5 mentre su Echo Show 8 vedete tutto più accessibile. Abbiamo la possibilità di gestire in entrambi i casi le routine senza troppe problematiche e dopo vi faccio vedere alcune cose. Abbiamo tutte le nostre routine che possiamo attivare e disattivare. Se accediamo al menu a tendina possiamo accedere nelle impostazioni, anche qui non cambia assolutamente nulla. Possiamo in entrambi i casi personalizzare lo sfondo e mettere le nostre foto. Poi possiamo caricare le foto direttamente dall'app che vedete qui. Una cosa però devo dire, Amazon, qui una critica, perché non dai la possibilità di personalizzare l'orologio? In tantissimi mi hanno chiesto di voler aumentare la dimensione del font dell'orologio, per esempio averlo centrale come su Google. Tu puoi mettere l'orologio al centro, bello grande. E in entrambi i casi su Echo Show 8 e Echo Show 10 non ho avuto la possibilità di capire come personalizzare questa cosa. Anzi, devo dire, dall'ultimo aggiornamento ho riscontrato che quando lui va in pausa, cioè mostra la schermata nera, anche in questo caso quando c'è buio diventa nero, la scritta è cambiata, è diventata più leggera, non è in grassetto come in questo caso, ha cambiato font. Ci sono rimasto doppiamente male quando ho visto che non si può personalizzare per adesso questa cosa. Io spero veramente che mettiate questa funzione che davvero, ovvero permettere a noi di personalizzare il font, la dimensione, il colore anche dell'orologio sarebbe top. Altra cosa interessante di questi dispositivi è la possibilità di utilizzare le skill. Guarda caso, guarda caso mi legge nel pensiero, ambient visual è una di quelle che uso più di tutte, pre-ambient visual. Guardate per esempio questa skill, ambient visual. Molte skill hanno la possibilità di utilizzare il display, potete mettere cose tipo il caminetto. Qui ovviamente posso anche utilizzare Prime Video, aprire YouTube. Qui disattivo il microfono. Eccolo qui, YouTube. Cerchiamo una canzone e sentiamo anche com'è la potenza. Anzi, lo apro anche di qui. Vedete, qui ho utilizzato il browser Amazon Silk, qui ho utilizzato Firefox, potete decidere voi quale browser utilizzare su ogni dispositivo. Guardate anche come cambiano le ricerche in base al vostro browser che utilizzate. Guardate quanto è strana YouTube, chissà che algoritmo c'è dietro. Se io vado ad aprire un video di YouTube... Ok, aspettate, prima che mi arrestano... Vedete, nelle impostazioni posso impostare 1080p, perché abbiamo un dispositivo con schermo HD. In realtà dovrebbe essere massimo 720p, 1080p è già un plus che in teoria non serve. Anche qui abbiamo la possibilità di impostare 1080p. Non sentirete mai la differenza con il mio microfono, però vi faccio ascoltare. Qualche secondo con Echo Show 8 al volume al massimo e dopo qualche secondo al volume al massimo con Echo Show 10. Ok, metto in pausa, sentiamo adesso i Echo Show 10. Non so se si è sentito nel microfono, ma c'è proprio una differenza bella grossa per quanto riguarda i bassi. Sento l'audio un po' più pulito su questo dispositivo. Qui invece lo sento un po' più tendente agli alti, non tanto con una tendenza ai bassi, ecco. Ovviamente possiamo consultare la nostra videocamera di sorveglianza. Per esempio io utilizzo EasyWiz, c'è la Skill che mi mostra la telecamera di sorveglianza, ma l'avete stravista nel caso guardatevi le recensioni su EasyWiz. E possiamo anche gestire la casa intelligente, ovvero senza per forza chiamare il dispositivo io riesco a controllare la mia domotica. Per esempio dietro c'è LED, io vado a spegnere LED e posso farlo tranquillamente da qui. Se vado a premere sopra posso anche regolare la luminosità, vedete, la percentuale 0%, 2%, 100%. Per chi non l'avesse visto c'è anche un video dove vi parlo di 5 trucchi che potete applicare sui EcoShow. Vi lascerò il link di questo video qui sotto in descrizione così se siete interessati ad altre funzionalità ve le racconto in quel video. Parlando in sé del dispositivo che cosa vi posso dire? Quando conviene acquistarlo? Parliamo prima di tutto di EcoShow 5. Io ho EcoShow 5 in casa, Podrax mi conviene acquistare EcoShow 8, secondo me. Non ti conviene andare a fare la sostituzione, al massimo se hai bisogno di un altro dispositivo sì, compralo ovviamente, però non andare a comprare EcoShow 8 per andare a sostituire EcoShow 5. Sì ha un miglioramento per quanto riguarda l'audio, ha un miglioramento per quanto riguarda il display che in questo caso è HD su EcoShow 5, no. Però secondo me non vale la spesa. Se invece come me avete un EcoShow, nel mio caso un EcoShow 8 andrà a sostituire EcoShow, quel primo dispositivo con lo schermo di Amazon, che tra l'altro costava 129€, adesso lui costa 129€. Tutto sto coso costa 129€, prima 129€ costava solo l'EcoShow, che aveva anche una qualità costruttiva, secondo me, peggiore rispetto a questa. In quel caso sì, conviene. Conviene anche se non avete mai avuto un EcoShow. Se invece ho un Eco normale Poderac, la differenza audio è tanta, faccio fatica sinceramente a trovare una differenza tra Eco di terza generazione ovviamente e EcoShow 8. C'è una differenza però riguardo alla struttura Eco normale, ha un effetto a 360 gradi, quindi il suono magari si sente meglio. Però forse per i bassi mi sembra lui più potente. È una cosa troppo personale, dovreste valutare voi. Anche lì non state acquistare EcoShow solo perché magari è migliore rispetto a Eco. Sicuramente è meglio di EcoDot in termini di musica. La sua funzionalità in più è il display che dà quel tocco di stile che non è indifferente. Perché la cosa bella è che potete mettere, come nel mio caso Amazon Photo, in automatico Amazon Photo si sincronizza con la galleria del mio telefono e mostra le foto sul display. Quando qualcuno entra in casa fa il suo effetto vedere tutte le foto, la possibilità di vedere i risultati delle partite, la possibilità di vedere anche il karaoke. Cioè quando riproducete una musica spesso e volentieri se supportato esce il brano sul display. Quindi quando c'è una festa potete movimentare casa, fare cose. Wow! Su ScontiGo ve l'ho segnalato in sconto a 79€. Un affare a quel prezzo. Cioè se non l'avete acquistato ancora a quel prezzo, fatelo subito. Se invece l'offerta è già scaduta vi consiglio di entrare nel canale. Così se dovesse ritornare in offerta ve lo condivido nuovamente. Vi condivido anche le offerte sui prodotti compatibili con questi dispositivi. Entrateci lo stesso, conviene sempre. Aspetto i vostri pareri, lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video inerenti all'assistente vocale di Amazon. Entrate nel gruppo che ho creato su questi dispositivi, il link in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS